Welcome friends, benvenidos amigos, ciao amici oggi vi consiglio una cover veramente bella che non c'è solo per lo Xiaomi Mi 6 ma per vari smartphone come vedremo dopo veramente bella perché potete cambiare la bordatura del vostro smartphone la cover è di silicone trasparente, è trasparente, silicone morbido vedete in questo caso potete, se avete una bordatura non so silver, oro, la potete trasformare in blu io in questo caso c'è lo Xiaomi blu con la bordatura gold pallido potrebbe diventare blu qui è gold c'è gold, rosa gold, nera, silver e blu allora andiamo a vedere la descrizione della merce se possiamo vedere molto molto carina e qui lo fanno vedere solo sul modello nero purtroppo diciamo che non copre l'intera bordatura la parte sopra e la parte sotto e la parte dei tasti e dove c'è la fotocamera anzi è un bel po' in bilievo dove c'è la fotocamera la salva diciamo questa la comprerò altre che vi ho fatto vedere in precedenza poi andandola a guardare ben bene c'era una che mi sembrava bella ma questa la compro questa la compro la compro di certo penso, penso, penso o la compro blu o la compro nera perché io ho il Mi 5 che devo ancora finire di configurarlo il Mi 6, ho sbagliato ce l'ho blu voi cosa mi consigliate? blu o nera? io sarei per blu almeno cambio un po' la bordatura perché il Mi 6 ce l'ha come ho detto prima un gold un po' pallido con una luce strana sembra quasi silver non lo so allora costa poco veramente poco 3,38 euro sì logicamente su Aliexpress spedizione gratuita 30-40 giorni allora questa cover come ho detto prima c'è in questi colori che vi ho detto e c'è per il Mi 6 per l'Hoppo R9S Plus e l'Hoppo R9S per questi smartphone nera forse nera prenderò gold dose gold e silver è della flovem non so se si pronuncia così spero di esservi stato nuovamente utile magari prossimamente qualcosa di diverso che non sia per il Mi 6 però in questo momento sto guardando le cose per il Mi 6 perché ce l'ho da poco e sto vedendo un po' di cose così ciao e al prossimo video ah ditemi se se vi piace il logo nuovo del canale mondo Xiaomi ciao da Stefano mondo Xiaomi e Tecnodevice e Grazie.